Trasmettiamo le interviste di Telearcobaleno 1. Buona visione. Senatore Pittella, il più bello dei mari è quello che non navigamo per una politica appassionata. Ecco, un invito ai giovani e perché questo libro? Un invito ai giovani a riscoprire proprio la passione autentica per la politica. Forse c'è proprio un distacco, cosa che lei non ha mai avuto da quando era proprio ragazzino. Diciamo che la politica non ha dato buoni esempi, però attraverso la mia esperienza vorrei dire ai giovani ci sono politici e politici, c'è politica e politica e la politica nel suo alto e nobile significato vuol dire risolvere i problemi della gente e se i giovani non stanno nella politica, la politica invecchia si inaridisce e diventa inefficace rispetto alle grandi questioni che vivono le famiglie e che vive il presente e il futuro del nostro tempo. Oggi è quasi inimmaginabile vedere un ragazzino di 14 anni che sale su una sedia in Vimini ed invita la folla a votare e a votare a sinistra. Sì, c'è pure un elemento secondo me di sangue, nel senso che tu o di famiglia, tu stai in una famiglia in cui si parla dalla mattina alla sera di pane e di politica, si mangia di pane e di politica e diventi affezionato alla politica. ed io mi sono trovato in queste condizioni e mi sono trovato di fronte a un bivio a un certo punto tra il fare il medico e il continuare a fare la politica e la passione per la politica e per il senso di giustizia che mi portava a essere socialista, quindi per i più umili e per i più deboli, mi ha continuato a fare la politica mantenendo questo grado di passione, nel momento in cui questa passione dovesse venire meno, verrà meno anche il mio impegno perché non si può fare politica senza passione. Per i prossimi mesi appuntamenti importanti, con quale grinta? La grinta di sempre e con un po' di saggezza in più perché insomma gli anni passano e quindi la grinta viene temperata, però bisogna saper costruire un'alternativa all'attuale compagine di maggioranza perché questa è una compagine che oltre a portarci fuori dai binari europei ma ci porta proprio fuori dai binari dalla storia perché non risolve i problemi, fa solo annunci e ci sta dissestando i conti pubblici e non ci fornisce risposte al grande tema che noi abbiamo, creare infrastrutture materiali e immateriali per fare posti di lavoro stabili.